Usa le gambe Samuel, spostamenti laterali, dai dai, piano piano gioca, perché solo qua puoi imparare con persone che hanno proprio esperienza. Lavoro con due o tre colpi Samuel, ma facili. Spostati in diagonale Samuel, non dimentica, bravo, così, spostato lavora. Questo è un bull terriere. Spostati in diagonale Samuel, non dimentica, bravo, bravo. Spostati in diagonale Samuel, non dimentica, bravo. ora ora mamma mia mia